Il trattamento della nuova linea Risana inizia dallo shampoo, delicato e ristrutturante, con una formulazione a base di bava di lumaca, semplice e leggera, priva di sless, un elesir di giovinezza e bellezza. L'estratto di bava di lumaca è il principio attivo più naturale per mantenere idratata la superficie del cuoio capelluto, fortemente idroscopica, protegge dai radicali liberi e dai danni meccanici. Lo shampoo della linea Risana è un trattamento delicato, con una texture cremosa che avvolge la capigliatura e inebria la cliente rilassata al lavaggio. Consigliamo sempre di applicarlo due volte, la prima volta per detergere e fare una pulizia profonda e la seconda volta per intensificare il trattamento, rafforzare e ristrutturare. Già solo con lo shampoo noteremo i primi risultati, capelli setosi, brillanti ma soprattutto più leggeri. Un trattamento bifasico studiato ad hoc, un concentrato di ingredienti capaci di ristrutturare in soli 3-5 minuti. Capelli molto sfibrati, trattati, secchi e opati. Un rituale semplice e mirato da miscelare con il pennello in dotazione fino a ottenere una crema omogenea. È un trattamento intensivo che aiuta a fortificare i capelli indeboliti e a sigillare le cuticole. Grazie alla rete di polimeri presente nell'estratto di bava di lumaca, in massimo 5 minuti ristruttura e ricompatta le squame alterate e lascia i capelli più corposi, rigenerati ed elastici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!